Eccoci qua, caldi e croccanti, per una nuova puntata. Siamo qua con Carina, ok? Mi viene a sternutire. Devo guardare la luce, no, tu non guardi, quando ti vengono gli sternuti non guardi la luce. No. A me, quando non mi viene, guardo la luce e mi viene. Sai che, no, un 45% di persone guardano la luce, altri in altri modi si stimolano gli sternuti. Sì, non l'ho saputo. L'ho letto su Focus. Quante robe imparate qua? Quante cazzo di robe imparate qua? Quante? Non è solo, capito? Cioè, questo è. Quando una ragazza inventa scuse per scaricarti, quali sono le scuse che inventa per scaricarti? Come, perché e quando anche? Oh mio Dio. E soprattutto come capire quando una ragazza inventa scuse? Ti lo capisco il cellulare. Il mio soprannome, ragazza scuse. No, dai, ti prego. Sì. Ti ci vedo per inventarla, eh? Ti ci vedo. No, perché sono troppo pigra ogni tanto. Poi ti giuro che a volte, come l'ha detto prima, non ho le palle, non ho le palle a dire la verità. Io sto imparando di farlo per dire... Ma non dici la verità perché è pura di ferire la persona. Sì, non voglio offendere, tipo, non perché voglio essere buona e brava, è perché penso sempre, no, la persona si sentirà male, bla bla bla, mille paranoia, mille cose. Per questo, per questo, meglio che le dico, guarda, devo portare il gatto dal veterinario. E non hai gatti? Li ho, di fronte. No, ce l'ho. Per questo so che funzionerà perché le mando la foto, tipo, io guardo, ho delle foto con il mio gatto dal veterinario. In galleria, che le uso, tipo, l'ho fatta, cioè, a posta lì, che quando devo veramente scaricare qualcuno, le mando foto, tipo, che, oh, io sono del veterinario, non so quanto tempo. Ah, hai fatto un servizio fotografico dal veterinario, tipo, tu così? Sì, 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 con il gatto, che poverino, cioè, ferito. Beh, è una figata questa, che figata è, ragazzi? Cioè, è proprio una coerenza totale, ottimo. Come capire quando una ragazza sta inventando delle scuse? Come capire? Uno, parto io. Quando, quando non ti dà grossi dettagli, spiegazioni, è quando senti puzza, cioè, il gatto, il contrattempo a lavoro, cioè, quando è tutto molto aleatorio. Sì, ok. Sussiste? Sì, o quando sta cercando di allontanarti, cioè, nel senso che chiede il tempo. Tipo, guarda, ci sentiamo tra un'oretta, che devo ancora capire, perché mi è saltato fuori una cosa all'ultimo. Ok, quando senti incertezza. Esatto. Da lì inizia un'altra ora, un'altra mezz'ora, lì alla fine lei già ha preso decisione, però sta cercando di arrivare a quel punto, quando anche tu, tipo, guarda, se vuoi prenditi l'impegno, è così, diventa furba, perché tu prendi l'impegno. E lei, ah, va bene, guarda, quindi ha già preso l'impegno. Ci aggiorniamo, sì. Quindi, esatto. Ok, al tre, come capire quando stai inventando delle scuse, te lo dico io, quando qualche ora prima e qualche giorno prima la senti più fredda, qualche giorno prima e ora prima dell'appuntamento non senti quella marcia che avevate qualche giorno prima. Esatto. Poi, anche quando non ti risponde, cioè, nel senso, tu li scrivi, li chiami e non risponde, cioè, sparisce proprio, poi torna con una scusa che, tipo, guarda, ero impegnatissimo all'ultimo, mi sono, cioè, perché scordata che avevo questa cosa in famiglia e ora siamo proprio via, non lo so, in montagna da qualche parte, perché ho dimenticato che oggi è il compleanno della mia nonna. Siamo partiti, mi dispiace, che proprio, cioè, sparisce, ma poi sta cercando di recuperare, perché sappiamo bene che ognuno tiene la sua reputazione. Tra l'altro, se avete amici in comune o qualcosa, lei ovviamente cercherà di, cioè, di curare la sua reputazione per rimanere brava, per questo cercherà una scusa o una roba del genere. Però se già tu l'hai parlato di qualcosa e l'avete deciso che, tipo, nel weekend o tra qualche giorno tu le richiami e lei poi sparisce, quindi... Ok, ok, ok. Come capire un'altra cosa, secondo me, è che non ti dà un'alternativa. Cioè, quando senti che non ti dà un'alternativa su un'altra giornata, stai inventando una scusa. Sì, sì, hai ragione, perché, cioè, volendo, poi la persona fa tutto il possibile per recuperare, per scusarsi, perché, cioè, anche a me capitava veramente delle cose vere, però io subito cercavo di recuperare, perciò, tipo, mettevo un altro giorno, spostavo quelle cose dall'altro giorno per vedermi con quella persona. Invece, se quello non succede, la persona sta cercando che anche tu ti allontani e così succede in maniera molto naturale, che vi siete allontanati tutti e due e nessuno non è colpevole. Ed è bella cosa. Cioè, bella cosa che immaginiamo che è bella cosa, così non sei offeso, hai citato la mia risposta e tutti rimasti bene. Amici forever. Best friends. Secondo me sarebbe, se non è bello portare, scrivetele, un appuntamento carina. Se non è una di quelle, per esempio, il mio video che feci tempo fa, come far parlare tanto una ragazza, ma cazzo mi serve con carina? Non mi serve? Non mi serve niente. Quindi quel video è inutile, perché, cioè, di base, tre domande fatte bene, giuste, l'avete risolto. No? È vero. Ok. Ultima. Cioè, come capire quando una ragazza ti stai mettendo scuse per scaricarti? Ok, allora, quando, cioè, quando ti, cioè, quando ti la scrivi o te la cerchi, è lei, o quando, guarda, non vuole presentarti anche, sai che, tipo, quando siete usciti, o che quando parlate, lei non vuole, tipo, i posti dove vi possono vedere, dove vi possono, tipo, così, nel senso che... Ok, quindi aspetta, quando è successo, quando succedono delle situazioni che ti fanno capire che lei è incerta sul tuo conto. Sì, sì. Quindi, quando sono capitate queste situazioni pre e qualche giorno dopo lei ti bidona e ti inventa un qualcosa, sono scuse, perché in realtà non è convinta. Esatto. Esatto. Ho già preso la decisione, però non te lo voglio dire, perché non ha le palle per dirlo così diretto e sta cercando una scusa per, cioè, per non offenderti. Ok. Sto pensando ad altre cose possibili. Come capire quando una ragazza inventa scuse per scaricare le vendete tutte? Come capire, come capire? Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Deve aggiungere qualcosa. Ne ho un paio, però non mi vengono, mi sovvengono. Ci siamo. No, secondo me ci sono, guarda, perché anch'io ho qualcosa in testa e non... Aspettiamo, tanto non cazzo da fare questi qua. Aspettiamo lì, aspettiamo un attimo l'ora. È anche bello vedere Steve che sta formulando le sue sinapsi che si collegano tra loro. Guarda, a te è successo una roba del genere nella tua vita? Che la ragazza ha fatto una figura del tuo... Freddezza, freddezza generale. Cioè, la ragazza è fredda con te, si pone in una maniera quasi da sconosciuta. E quando quindi dice queste parole, queste frasi, non posso davvero, secondo me sono scuse. Quindi, leggere il sottotesto. Il sottotesto è importante. Quindi la freddezza che lei utilizza è sicuramente indice di quanto poi sia vero oppure no. Cosa dici? Sì, ma anche quando la persona non è... Io ho sempre pensato così. Se una persona, sia uomo che donna, è interessata, farà del tutto per mantenere la promessa. Ma del tutto. Farà del tutto, capite? Cioè, se è così, ci sta. Farà di tutto. Cioè, per dirti, anche gli uomini, guarda, non... Sì, qua parliamo delle donne, ma nei miei confronti... Ti hanno abidonata? Ti parte, già lì capisci che c'è qualcosa che non va e poi torna, ti giuro che ci vediamo. E poi io non riesco a capire una cosa. Se tu non sei abbastanza interessato, perché a questo punto non è interessato... Ok, quando promette, 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 però vedi che la prima promessa non l'ha mantenuta, la seconda neanche e la terza segnale. Ti tiene, anche la donna fanno queste cose. Lei ti promette, ma non lo fa, sta... Cioè, però ti tiene, sai perché? Per nel caso, se le salta qualcosa, non lo so, tipo se le servissi un giorno, non lo so, per portarla a fare la spesa o per urgenza o per qualsiasi motivo, tu ci sei per lei. Ok. Per questo, però già devi capire lì che se una ragazza ti promette, promette, ma sempre trova una scusa o sta proprio allungando quel periodo, quindi non è proprio interessata. E c'è un altro motivo per il quale non voglio rovinare questo rapporto. Ok, vuoi aggiungere qualcosa? No, ci siamo. Ragazzi, da me e Carina è tutto.